Un saluto a tutti i tifosi rosso-blu, benvenuti, siamo su Genoa Channel direttamente dalla cantera Stadium di Genova. Vedete in questo istante la squadra che sta entrando in campo per la seconda amichevole consecutiva di questo precampionato 2020-2021. Quest'oggi avranno spazio i giocatori che non hanno giocato ieri, praticamente a parte due Nester, adesso daremo la formazione, che hanno appunto fatto uno scampolo di partita, tutti gli altri erano rimasti a Iposo. Il Genoa scende con questo 11 in campo, con il numero 22 Marchetti in difesa, con il numero 33 Curado, con il 5 Masiello, 3 Valietti, il 5 di centro campo vede con il numero 89 Ejango, 17 Berlec, Rovella col 65 Iagello, 15 44 Ierosinski. Di punta abbiamo con il 25 Spinelli e con il 24 Bianchi. Direi che l'arbitro sta per fischiare, Bianchi sul pallone in questo istante, fischio dell'arbitro. Parte questa partita, come detto quest'anno è tutto diverso dal solito perché il virus ha portato a cambiare completamente i calendari. Adesso un'azione, attenzione, l'opportunità, l'opportunità e il gol, il gol della Carrarese su un errore, una respinta sbagliata e quindi in questo momento abbiamo visto l'opportunità della Carrarese che ha sfruttato. Si accentra Spinelli, Spinelli per Bianchi che allarga per Valietti, il cross al centro, la palla rimane nei piedi di Bianchi, 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 gol! Gol del Genoa, il pareggio del numero 24 Flavio Bianchi. Il Genoa in questo momento Giacomo Calò per Biraschi, è salito un po' il Genoa, Biraschi prova la palla lunga sulla destra per Andrea Pinamonti, Andrea Pinamonti che riesce a conquistare questo pallone, non commette fallo e mette la palla al centro, l'opportunità, il tiro, la traversa, la traversa, una buonissima occasione per il Genoa, è stato molto bravo Pinamonti a mettere sui piedi di Claudio Mikowski un pallone invitante, ha colpito di sinistro e colpendo la traversa da poca distanza. Passa a Biraschi che era l'ultimo uomo in quell'istante, Biraschi, Masiello, Masiello salta l'uomo, la palla per Iagello, Iagello, Valietti, Valietti sulla destra, la palla torna Iagello, è in posizione regolare, Iagello al centro, l'opportunità, il tiro di Pinamonti che viene rimpallato e poi il gol, il gol di Andrea Masiello, una bella azione sulla destra di Federico Valietti che rimane in posizione regolare, riesce a fare un bel cross al centro, arriva sul pallone Andrea Pinamonti che tira ma viene rimpallato, si ritrova la palla nei piedi Andrea Masiello che sigla il gol del 2-1 a favore del Genoa.